sinceramente con tutto l'elen che hanno quindi ce ne serve un altro che sia fieric che sia però fieric io posso comprare quell'oggetto ma in realtà l'oggetto completo è forte comunque da un sacco di stats da bruiser rispettiamo a livello 1 hanno pantheon e silas soprattutto potrebbero fare anche un late invade è probabile si penso che sicuramente ti vado infatti serve serve sono around ma io so qua io so quasi no è tardi adesso è tardi non c'è andare metti la guarda il lavoro lo so che mi stanno mettendo il buco del sesso no no mette lavoro mette la corda perché te vanno poi da sotto allora facciamo facciamo quella roba mettiti qua jennifer si suona lo sappiamo anche noi rimani qua rimane qua finché non starta il campo appena se vedi che non invadono vieni bot con la pianta già poi muoverti verso la porta da te non sono in batte ok si si ma a cari e non ti prepariamo che startino vinci focus a los focus ieri su ragazzi demoria sarai di morire per favore bello bellissimo ma Vengo botte, no? Sì, sì, sì. Che sì, è ovvio. No, c'è il colore minion swappati. Non puoi indietro da questa cosa perché ho perso un minion di expo, quindi non avremo proprio botte in questa situazione. È fine. Sì, ma penso non è f*** se non ha fatto il campo io l'ho, no? Deve fare un... Potrebbe startare dal piccolo. Comunque, vabbè, non è completely f***. Loro non saranno... Crasheranno terza wave, forse hanno un angle addirittura per invaderti, non so quanto sai l'ossessiva f***ato in questo momento per invade. È un po' behind, però anche io sono... Un po' anzoppato dal start IQ, quindi... Vabbè, da farmi comunque i lupi, dovrebbe essere fine onestamente. Bot, miss. Probabilmente regolata. Potete guardare. Ok, se hai regolato, posso. Non lo sappiamo, sinceramente, però non mi sembrano persone che vengono a invadere. A meno che non io lo call la spara. Allora, d'accata come si... Dovrebbe essere fine. Io non ho info sul loro Silas, suppongo che stia clearando into bot. Abbiamo un bounce bot, ma... Non è detto. Non mi attaccare a minuita. Beh, facciamo questo e ci rendiamo in base. Mi sta pante. Sì, ma mi era full adesso. Considera prova eventuali gank, così così. Ma sono sotto torre, quindi... Oh, eccolo qua. Vai, lass. Stare sta clearando into top, è ancora solo al 3. Sto andando qua, sto andando a fare lo scatto. Quanto è un top? Ok, risettiamo. Tu vuoi gankare, se no, bravola? Posso? Tra un attimino, mi serve l'evo 4, mi serve lo scatto. Scattole, poi posso gankare un po'. Ok, no, no, no. La wave è troppo grossa, ora sentiamo in base. Ok, top sempre. Fanno anti-Ella? Sì, sì, sì. Sì. Prendi il libero da 4, ok. Hai lo slow mid? Eh, sì. Vediamo se grid ha. Per il cannon, se volete vedere. Lo sa, immagino. Possiamo perdere il cannon? Ok. Saras potrebbe essere i miei golem. Non credo, non credo. No, non penso. Saranno andato a clearare il jungle buff. No, non penso, però, se vuoi provare... Devo prima per un campo, poi potrei pensare, anche se comunque c'è considerato a Saras topside, nella sua giungla in teoria, molto probabilmente a clearare. Però... Non ho male, non penso, non penso. Te lo posso peritare, guarda, è già basso. Cioè, ho la wave qua. Guarda, se tieni la wave così, è... Sì, sì. Ah, penso che stia regolando, no? Eh, sì, sì, penso che sì. Sì, sta regolando. Tu tieni la wave così, è step-host, io regol... Sì, sì, io sto in silo. Ne vado verso bot. Saras potrebbe aver regolato, potrebbe essere golem raptor. Gli prendo item. Ok. Andami. Piano, 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 basta. Troppo il minimo. Eh, hai lato? No, vero. No, no. Eh, se... Occhio mid, ci potrebbe essere Saras dietro. Saras sta qua. O dall'altra parte. Sila, sila. La wave è good, la wave è good. Fai arrivare me. Vengo mid straight. Gli ho fatto un po' di paura. Ok, se n'è andato, se n'è andato. Vado back. La wave va bene, così? Sì, sì. L'una al TP. Mi farà andare back. Tu resta, tu resta. Sì. Vieni, tira wave alta, è perfetto. Cioè, così. Non la far andare sotto il re. Abbiamo in posto raka? Starà tornando a bot. Eh, roga, sono regalati entrambi. Ne stiamo regalando anche noi adesso. Sono sulla mappa prima, loro. Va bene, ma è pushato, prendeva il flash. Va bene così, è benissimo. Sarebbe esserci soraka mid, adesso sì. Cerca di pushare velocemente, perché sto servito. Ho la R, posso ruotare, ho la R. No, no, siamo fine. È solo perché lo heal adesso, tra poco. Vengo dopo, mazziamo. Tieniti la wave così. Eh, soraka è mid. Per non perdere troppa vita. No, 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 scusami. Ho preso la passione. Quanto è un'ail flash, se non mi metto? Sì, sì, it's fine. Tieniti la wave così. Sì, deve essere lì. Puoi ultarlo? Spera. Arrivo? Va bene così, va bene così. Troppo, troppo. No, no, va bene così, era guardato. Ha flashato, ha flashato, ha flashato, giusto? No, 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 ha flashato. Ok. Cazzo c'è il fai. Mid back. Spara me e vi scatto il bot. Rispettate un attimino. Vabbè, siamo si è pushatini. Io qua vedo mercs, eh. Non ha senso non fare mercs contro il team. Ecco, troppi cc. Oh, what the fuck? Potete mettere un attimo pausa? 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 Che è successo? È un attimo solo, mi si sta, mi si è bloccato, non so. Non mi funziona, un cazzo mi funziona. Questo computer, veramente, di computer coreani, veramente è il tuo, ma... Ehm... Ehm... Prena staccare a te, cara. Ma posso? Allora mi... Mazziamo sotto l'ancore, ragazzi. Stai laggando, però, quello... Eh, ci hai sentito laggare. Allora, ora mi sentite? Ora mi sentite? Sì. No, 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 ha troppo l'umore. Guardi un secondo. Ehm... Allora, dovrei esterci, però vorrei fare una prova sposando, perché non mi funzionano i tasti, se no. Ok, ci sono. Ok, quindi cosa vogliamo fare? Ho detto Red Divine, ci saremo estere. Vabbè. Ok. Ok, partiamo. Ok, top è gankabile, se vuoi. Sì. Ora mid, tre mid, occhio. Sì, sì. Sì, sì. Quattro mid. Visti, visti, visti. Vado in gank, anch'io? No, 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 stai lì. Vieni, ti avrei avuto a provare a gankare top. Mh, certo. Sì, te l'ho qua. Sì, sì. Sta qua, sta qua, sta trovando. Qua fanno drago, eh. No, è fine, è fine. Vado? No, no, ancora. Non è che ho guardato. Eh, I don't know. I guess a qualche parte deve essere guardato. Yeah. Forse sono bravo. Qua è possibile run, David Wealth. Ok, qua. Andiamo a dare la wave. C'è, healing. Silas dove può essere, non mid, spero. Orca miseria, il danno mi ha fatto. Eh, maybe. Eh, non lo sappiamo. Non è top. Per esempio, potrebbe stare facendo trick adesso. Va back made, va back made. Vuole andare da dietro. No, c'ho la ulti. Non mi fa abbastanza danno. Se si appaggia la posso provare a vedere. Oh. Ma bene, anche così abbiamo preso. No, 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 kill. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Brava, brava. Sparmati la wave. Guarda, c'è Siles. Guarda, mì, spara. Io ci sono, anche. No, ci sono, ci sono. Siles, Siles. Oh, a cazzo. Tipo, 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 tipo. Andate, andate, andate. Ho la R, ho la R, ho la R. Andate, 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 andate. Vai. Ok, ho la R di me. Ok. Bello. Ho il 6 dopo il cannon, eh. Dopo il cannon volo io l'inno. Bello. Hanno anche le R di me, ma sono più forte. Do, 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 do. Rozza solida. Good job, basically. Bravi, bimbi, bravi, bravi. Era solita il Saroge o no? Madonna, sarà. È anche il polino, Saraka. Ah, no, c'ha il 6. Vai, Gen, back top. Rai quant'è il 6? Rai quant'è il 6? È, pochi sesso. Rai quella, è quella top. Noi, mano. Rai quella è top. Eh, sì, sto cerchiando, aspetta. Se c'hai, se sei il range di Soraka e ci sono anche io, puoi ultarlo. Vuoi fare il Drago, a breve? Ti tirano un E, ti spotto. Io ho visto Swain verso top, forse fanno Herald. Per esempio, sono pure ente Herald. Voglio rispondere con Drago? Eh, sono l'Herald, sì. Mostra likely sono l'Herald. Sì, e poi guardo là dietro, mentre cammino i top, Jennifer. Sì, sì, posso, posso, posso. Ho la R in un minuto. Se manca venire qua. Ok, se la squadra, se la squadra. Ci sono, ci sono, ci sono. È morto, è morto, è morto. Bravi, boys, bravi, bravi. Ho la R, ho la R. Non muoio mai, non muoio mai. Spawn, flash, cleanse. What? Vieni, per te, vieni, per te. No, sei un paio, sei un paio. Ce l'avete, ce l'avete. Oh, c'ha la ulti nuova, questo. Qua devo flashare. Non flash, sono morto. Ma non c'ha cooldown, sta ulti di merda, ma che è? Di chill. Vuoi in il mid, Fragola? Vabbè, ruota. Vai, vai, vai. Aspetta che non ho... Mi farei qualcosa di... Ho una mano io, eh. Arrivo, arrivo, piccolo, arrivo. Arrivo. Ok. Andiamoci. Ce l'ho io, suoi. Sbong. Sesso. Sta wave te la lascio. No, ormai è andata. Prendi, prendi, prendi. Ok. Vado back, c'ho... C'ho down to start. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Bravo, 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 Fragolino. Sesso. Ehm... Ah, mi ha ucciso Raka, buono, dai. Sì, te l'ho detto, è shutdown to Raka. No, vogliamo giocare top adesso che c'ho anche la R, c'ho il guanto. Sono una sborrata gigante. Ti devo ripollare, sono gigante. No, 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 giochiamo sempre per... Drake. Ok, ok, ok. Attenti che Pantheon ha la R in 30 secondi. Ash no flash, questa la disegnata parla... Guardi Pantheon, non me lo guardi? Sì, ce l'hai, ce l'hai. Se fate una fast play, buono. Ascolite, ascolite. Faccio un salto top, ragazzi. Non serve, non serve. Per sicurezza. Tanto ho pushato. Ok, c'è questo, ancora. Io dovrei collare, dovrei collare. Guardato qua. Io tengo la top pushata, cioè. Posso venire Syla stop. 30 secondi la mia R e poi possiamo fare cose. Cerchiamo di abusare il fatto che asce non a flash, che qua posso linnarla quando voglio. Però magari ti diamo a uscire lì. Manca mid, ragazzi, manca mid. Pantheon miss, Pantheon miss, Pantheon miss. R top, R top, Pantheon R top. Ce l'hai la R, eh sì, la R. Syla's è top, Syla's è top, Syla's è top, Syla's è top. Non fa niente. Ma basta che lo tieni mid, non serve la taia. Sì, sì, Syla's top, ha preso la mia R. Top loss, è sopposso. Siamo bot, pusha, 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 pusha. Sì, possiamo diveare su questa, possiamo diveare su questa. Vedo ultato. Io ho baito top. Ok. Però ulti tra dieci. Asci no flash, Asci no flash. Vai, vieni, vieni, vieni. Asci no flash. Può andare su quell'altra anche? Ah, ok, è killato. E' morto. Brava, Tommy. La bella ward, la bella ward. Vado a fare drago. Occhio, sono herald, non morire top, non morire top, sono herald. No, 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 sto posto, sono posto. Sono fancy. Ok, io faccio dragon. Una manina al drago non mi dispiacerebbe di non cercare un quarto d'ora, però... Arrivo, arrivo, arrivo. Faccio un salto, poi vado back. Oh, c'è la squadra, c'è la squadra. Arrivo, arrivo, c'è la R di me. C'è la ultima al fight, eh. Fine, fine. Ruoto, devo ruotare? No, 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 no. Devi ruotare solo il pisello, Jennifer. C'è adesso. E rimango che potrebbero provare per evitare qualcosa. C'è la R. Yikes. Sorry. E niente. È il ping, è il ping. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Guarda qua, guarda qua. Guarda qua, guarda qua. Guarda qua, è morto, è morto, è morto, è morto. Ok, c'è gente, bot. Ah. Quanto io non ha la R. Io non c'erivo lì, ah. È morto. Arrivo, baby. Basta, basta, basta. Io posso resettare per l'Aerod. Mid manca, vogliamo fare l'Aerod, proprio. Non ho male. E se la sbotto, riesci a coverare il Raul, eh? Non ho male. Non ho mana. Non ho ulti, però, non ho ulti. Io regolerei. Ok, basta, basta, no, no, sorry per non. Nel caso, erano il caso forse ha. Mi sta Pantheon. Ah, non ho svuoppato, vado a me. Svuoppiamo, svuoppiamo. Sì, 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 sì. Tanto la W è pushata verso di lui. Stiamo a posto, sì, sì, adesso. Eeeh... Cos'hai detto? Flash. Questo fight. Non so il cooldown di Soraka. Quando è che ha flashato? Ve lo ricordate? Non ho flashato mai. Ha flashato Ashe prima. Manca top, forse vogliono risuappare. I don't know. Occhio a mid, sei bruciato. No, no, sto a posto, sto a posto. Manca top. C'ho la R, io, se vogliamo fightare, ragazzi. Ho anche il flash. Volevo prendere un'altra campi. Stanno swappando, vado top. Sì. Ma... Non c'è adesso. Sarazzo dovrebbe essere top, se deve essere adesso, ragazzi. Quindi io vado mid. Ok, magari... Oh, c'è Silas qua. Lo fightiamo? No, c'è Pantom, via via via. Aspetta, io non ci stavo. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Che buono, eh? Andiamo per la ward. Buonissimo, buonissimo. Vita, 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 vita. Oh, shit. Almost. Quello non so se lo killate. Beh, 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 che c'è l'ha, beh. Devo andare out. Eh, a livello 10, a livello 10, secondo me non ce la fate. A livello 10 non sila troppo. Ok. Io vado out. Eh, cercate di... Sì, vai out, vai out. No, cazzo. Scopiato. Adesso. Io non ho mandato il flash. Ok. Sorry, sorry. Ho il TP comunque. 20 secondi la mia R. L'errode è fightabile, fra l'altro, se ci muoviamo noi. Lancia oltre i swindiri, proprio, sì. Io ho fatto l'execution del killing. Stiamo muovendo, allora. Abbiamo il TP di Malfoyed e il naso sta arrivando. Questo ha flash? Eh, non so. Siccome hai usato tutto, ma non sono sicuro. Potrebbe averlo, potrebbe averlo. Andiamo a info sbagliata. Vado, 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 vado. Io non ci sono. Ah no, sta... Sto andando. Io tipo top il secondo e c'ho live. Sto a rotto un bot. Sto a rotto un bot. La flash è ultima, la piazza. Ci sono? Tipo, tipo, arriva, arriva. Arriva anche io, arrivo anche io. Non ho la R, però c'è la prima. Ti flash in alto, la totica mi flash. Arrivo. Ok, va out, 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 out. Non c'ho la ulti, non c'ho la ulti. Oh. Via, via, via. Se mi salvate è buono, non c'ho la R di Sylas. Allora, hanno usato la R di Sylas con Malfoy, cioè... Quindi per i prossimi fight dobbiamo riuscire a vincerli. Possiamo forzare la R, però no. Possiamo forzare la R, che c'ho io la R. Loro non la possono prendere lì. Io pure, c'ho la R, ma... Arrivo. Push o top, push o top. Ho la R in 10, io ce l'ho... Questa? Ah, mi sacca flash, però, eh. Arrivando. Sono un po' distante, però. Solo. Arrivo, arrivo. Penso che si fa. Aspetta, aspetta. Anche un top. Non c'è da me, non credo. Stai arrivando, Mito. Facciamo citarlo, facciamo citarlo. E mi cuore un attimino qua. Vai, iniziatelo. Vai. Io ho 200 gold e c'ho l'item. Sono in eppos. Lo give up, non lo give up. Sì, devo andare, devo andare potto. Ok, ok, ti potrebbero tagliare. Ok, dove vai, eh? Eh, sì. Devi venire mid, Kierke. Vengo mid. Recollo. Potrebbe esserci... L'ailhouse qua, ma non credo. Ok, top, secondo me era un top. Ma... Quello che sono andati via, eh? Vengono... Vengo... Vengo Drake. I fight li dobbiamo vincere, ragazzi. Silas non ha la R di Malphight. Non c'ha R utili, a parte quella di Sona. Frago, la mi vuole il Drago, oppure vado top? Sì, sì, mi ha il Drago. Mi ha tutti il Drago. Occhio mid, non fai dare. Non fai dare cooldown. Abbiamo doppio Antiel adesso, eh? Quindi cerchiamo di focussare quelli che c'hanno l'Anteal. Occhio di qua, che puscia. E non fa niente, ovviamente. Facciamo free Drake. E facciamo bot tower. No, in via, gli vappano questo. Forse top si può già cambiare se vediamo... Possiamo dai vari bot. Possiamo dai vari bot. Kierani stop. Vado bot io, raga. Dive subito bot o Drago? No, ce ne abbiamo bot. Ma ve la guardo, ve la guardo, ruoto. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo straight, guys. Oh, questo? Preso? Arriva, 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 arriva. Guardatemi Ash, guardatemi Ash. Fammi tankare a me, eh, grano. Tanto io? Ok. È la top up, bisogna riferire. Sì, non flash, non flash, non flash. Morto. Malphite, malphite top, malphite top. Vado, vado, vado. Sto ruotando, sto ruotando. Vado, vado, vado. Ti può fare Drake, possiamo prendere due tower. Tu puoi andare Drake, giù a Brawl. Prendiamo due tower noi qua. Sì, lo fanno. Oh, questo è un di Dive, se vuoi? Ah, c'è l'altro, c'è l'altro, Dive. C'è il W? Non ci sono arrivato. Un'altra, un'altra, un'altra. No, andate via, andate via. Andate via, andate via. Andate via, andate via. Andate via, andate via via, guardate via. Quello è per arrivare. Contro le mie golem, contro le mie golem, Jennifer. Ci dovrebbe essere pantheon, c'è campo. Ti riguardo. Non so niente. Realmente resettato per il 3-Bot. Vado mid, allora. Ok, nel silence è che è full squishy, guarda che build che c'ha, criminale Ok, mid Avete visto stunner utilizzate? Soraka flash, sicuro Ok, grind anche il, most like, live a top, voglio anche la strait Ma ho la R, guardo mid, mi guardate, mi guardate, buone, buone Aspetta, 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 c'è Sylas qua, occhio Arrivo, arrivo, arrivo Pantheon con la ulti sta arrivando Ok, ulti di Malphite, aspettate 20 secondi che mi serve l'ulti Per giocare contro l'area di Malphite Ok, allora scegliamo un attimo, via farmo due campi Guarda top Spurisco top e ruoto herald 600 gold Il nostro nasher penso sia molto veloce, no? Con Zack e Xayah Non so, non so, non so, non so, non so, non so Una ward al baron, please C'era da prendere Pot Ok, allora fanno una pick disperate e play, eh Quindi Ok, 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 mi parla Sto post, sto post, gli tank Arrivo, 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 arrivo Culta sui loro Il nasher, il nasher, il nasher Il nasher Ci sono dietro Vlash out Vai vai vai, Sufraga Un nasher Lo nasher, io nasher Un nasher intanto, evitatemi Start, start, vai 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 Poi, vai 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 Tira, guarda dietro Vai, guarda dietro Minutes qua! Minutes! 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 Di qua! Di qua! Di qua! Finiamo Nash! Finiamo Nash! Ammazza prima spara! Nash or 2k! Ora arriva eh! Non penso che ci sia qualcuno... 3x3 al jump! Va bene, va bene! 200 gold, push over top! 2x3 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 Sono indietro di stack ma alla fine sti cazzi Sono comunque molto grossi Ulti di Ashe c'è anche! 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 Ulti P! Non ho la R! Ulti P! Non ho la R! 8 secondi! Ok! Basta! 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 1k! Sott'ovvio! Ecco anch'io! Mi sta indietro, aspettiamo! Ok, adesso non c'ho... Non c'ho la R per un minuto e mezzo Quindi dobbiamo un attimo chillare Ma penso che non hanno... Trove per arrivarmi, to' più onest Quindi penso che dovremmo riuscire a fightare Abbastanza tranquillamente Giochiamo con... Mal fight mid e noi 4 bot adesso Finisco la wave e vado mid, arrivo Sì Non faccio danno, le prendo due stacchine Oh! Questo che fa? Minibot! 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 Nasus mid! C'è Nasus... Minibot già! C'ho la R se serve... C'ho RTP Guarda, ora! Occhio! Lascio mid, lascio mid, lascio mid 3 mid, 3 mid Sì L'importante è che... Bot, bot, bot! Chiudetelo, chiudetelo, chiudetelo! Riusciamo, bot! Vieni con me, vieni con me Vieni con me, vieni con me Vieni, vieni qua Vieni qua Questa è facile Sì, sì, sì Ma possiamo dievarli Penso che possiamo chiudere Sì, sì, vado straight Vado straight Aspetta, però coordinati con Fragola Non andare... Ah, va con Fragola Hai detto Facciamo i torri, torri, torri Fate torri Io, 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 io Facciamo i torri Non siamo vicini Se loro non fanno niente, lasciatemi il tal Questo è... Fruttato Basta così, dai, basta così Non trolliamo per... Tanto possiamo chiudere lentamente Non ci serve Prendiamo mid Prendiamo mid e poi ci vediamo il drago Quando... No, no, dopo il drago Prima pushiamo mid Guardi, sono sweeper No, niente Vabbè, pushati, mi nascondo C'è la R di Syras... Di... di... di Malfoy Ma... Allora, io... Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Va bene C'è da prendere top, ragazzi Prendiamo anche i jangoli insieme Penso che sia... Gravo Gravo in venti, eh Non facciamo... Andiamo al drago adesso Guarda questi Vi guardo, vi guardo Vi guardo Preso? No, ho sbagliato No, no, no Bene Top cap era tutto calcolato Sì, sì, sì Lasci inutile Lasciatela perdere Lasciatela perdere La prendo, la prendo Ok, dai Buon game Ho fatto la Royal Rumble qua GG Ma cosa era quella R? Però è stato un bel bait Possiamo dirlo Eh, top gap È stato un bel bait Quella R di Malphite Prego, prego Una serie Che poi attenzione ragazzi Attenzione, Nasus Nasus lo hanno salvato loro Quindi noi possiamo salvarlo E se loro lo ferspiccano Non ferspiccano pan No, 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 no Non ferspiccano